Prima di iniziare con questo video vorrei ricordarvi che ho un canale telegram dove posto un messaggio ogni volta che esce un nuovo video e una pagina instagram dove faccio lo stesso quindi per non perdervi nuovi video e le ultime novità sul canale mi raccomando iscrivetevi i link li trovate qua sotto in descrizione Ciao a tutti in questo video vedremo come avere un ddns per accedere da remoto al software che abbiamo visto nel video precedente con un raspberry pi in particolare andremo a vedere il servizio di Noipi che è un sito che ci permette di avere gratuitamente un ddns per 30 giorni terminati i quali ci arriverà un link via mail basta solo cliccare e avremo rinnovato il nostro ddns il ddns è un sito web che ci permette di accedere a un computer remoto in questo caso il raspberry pi senza dover digitare un indirizzo ip quindi cominciamo subito per ottenere il nostro ddns dobbiamo visitare il sito noipi.com qua possiamo creare il nostro nuovo account quindi scegliamo un hostname che sarebbe il nome del nostro ddns e qua ci chiede email e password per creare il nostro nuovo account qua dobbiamo accettare i termini e le condizioni e possiamo creare il nostro account adesso dovrebbe essere arrivata una mail alla nostra casella di posta e dobbiamo cliccare sul link per verificare l'account dopo aver confermato il nostro account possiamo fare login qua possiamo fare annulla e adesso se andiamo in dns dinamico avremo il nostro ddns però ci dice che non è ancora stato configurato quindi a seconda del nostro modem possiamo configurarlo in vari modi io vi farò vedere come farlo con una vodafone station revolution visto che ho vodafone però la procedura cambia da modem a modem quindi visito l'indirizzo del modem qua dovremo recarci sulla pagina internet dns e ddns e attivare il dynamic ddns provider mettiamo noi p il nome del dominio mettiamo quello scelto prima e qua ci chiede email e password dell'account che abbiamo creato precedentemente facciamo applica e quindi abbiamo salvato ora in gestione porte dobbiamo fare l'apertura delle porte per fare in modo che una connessione al di fuori della nostra rete possa essere indirizzata verso un dispositivo specifico quindi schiacciamo più servizio mettiamo personalizzato nome del servizio quello che vogliamo io metto ddns dispositivo qua possiamo scegliere il nostro dispositivo a cui ci si deve connettere o in alternativa possiamo scegliere un indirizzo ip locale se il nostro dispositivo non c'è tra questi elencati protocollo mettiamo tcp qua mettiamo porta la porta pubblica deve essere 80 così è una porta http e non abbiamo problemi la porta locale mettiamo 8080 nel nostro caso perché lo stiamo configurando col servizio di flight radar che abbiamo visto nel video precedente comunque qua sopra trovate il link al video qua possiamo fare salva e applica ora le nostre modifiche sono state applicate e possiamo finalmente usare il nostro ddns l'ultima cosa da fare è proteggere il nostro dispositivo con una password nel nostro caso stiamo proteggendo il sito modessdeco2 sul raspberry quindi dobbiamo andare a modificare il file start.sh che abbiamo visto nel video precedente quindi digitiamo cd modessdeco2 è la cartella in cui abbiamo inserito il file e poi digitiamo nano start.sh quindi dobbiamo aggiungere meno meno web out spazio dobbiamo digitare username due punti password senza spazi io farò tutorial due punti admin quindi per salvare facciamo ctrl x s invio dobbiamo ancora rendere eseguibile il file start.sh perché l'abbiamo modificato quindi chmod più x start.sh e lo stesso comando però al posto che più x 755 ora possiamo riavviare il raspberry ora per dimostrarvi il funzionamento del ddns sono collegato col mio mecca a un internet key vodafone e come vedete ho il wifi spento quindi visito il sito lui mi chiede nome utente password e quindi posso vedere sempre la mappa con tutti i voli e i vari grafici come proprio se fossimo a casa collegati alla nostra rete se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere like e di iscrivervi al canale qui in centro ciao e alla prossima ciao 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 ciao